Volevo fare il cameraman ma mi è sfuggito. Mentre passa Giuseppe Milano racconterò la sua storia, citerò la moglie. Poi citerò i sigari. Io sto già registrando e quindi. Forse ho firmato la mia condanna. Francesca quanti minuti mi fa sulla sua storia? No eh? Sono Vanni Zagnoli. Quanti minuti mi fai sulla tua vita? Niente. Buonasera Lucchino. Ciao. Luca Ampollini. Chissà se c'è un'uscita laterale. Paolino Conti. Eccoli. Ciao Gicchie. Vatti ciao. Ciao Gicchie. Beh la telefona, il messaggio di D'Averso è stato straordinario. È stato molto bravo. Interpreta appieno il mio. Vanni Vanni. Ma neanche Zagnoli. Che so fai qua di nascosto? Sono venuto a posto perché no, col Covid va bene. La storia è molto lunga caro Paolino. Zidane, cioè lui farebbe, allenerebbe il Real Madrid meglio di Zidane. Eh sì. Ma è incredibile. No ma, pensa Paolo, la differenza fra lui che fa lo show in sala stampa con tutti gli allenatori del mondo e io che non vengo accreditato in nessun posto perché disturbo. Capisci? Paolino, mi prendi a casa tua stanotte Paolo a raccontare visivamente. No, non è che vengo a dormire. Vengo, faccio un video di un quarto d'ora. Stai, a casa mia adesso è proprio il momento giunto. Niente. No, Ampolini non mi vuole, quindi devo cercare. A me non ti voglio. Ah, dai, dai, dai. Io ho i bambini a nanna. Appunto. Poi vorrei intervistare tua moglie che racconta a te. Eh, vabbè. Non la riconosco, ma... Lei, eh? Vanni Zagnoli. Ah, no, chi è basso? Sono un giornalista che racconta tanto in video. Perché? Ho suonato... Mi ha aperto lei prima. Eh, sì. Ah, infatti, infatti. No, faccio una roba, non entro neanche, sono un giornalista. Mi scusi, anzi. No, pensavo mai essere riconosciuto. Mi ha aperto. Ho provato a suonare al cirocro, ma non mi ha risposto. In che senso? Perché stava lontano. No, io ho suonato. Sì, però... Lei mi ha aperto. Sì, ma lei si è allontanato. Mi ha aspettato che lei entrava. Mi scusi. Io ho suonato. Lei mi ha aperto, ho preso la macchina e sono entrato. Sì, perché io l'ho detto chi è... Non l'ho sentito. Ah, no, no, se no mi sarei presentato. Lo faccio qua. Mi chiamo Vanni Zagnoli. Sono un giornalista. Ho scritto dal 92 al 2016 per la Gazzetta di Parma. Sono venuto ospite spesso. Racconto in video qualsiasi cosa. Sono venuto apposta da Reggio. Non entro perché c'è il Covid. Ho fatto vedere gli amici, i colleghi che escono. Ho fatto vedere... No, il cameraman non l'ho... No, tra poco poi me ne vado. Aspetto solo... Sì, sì, il cognome... Zagnoli. Zagnoli. Vanni Zagnoli. Vanni Zagnoli. Se non mi avesse aperto li aspettavo fuori. Il problema è che farli vedere che escono si vede una macchina. È una sagoma, capisci? Racconto tanto il costume. È un giornale mio. Grazie. Facciamo spazio.